campari analisi mensile gennaio 2021 aggiornamento di questo titolo direi di questo splendido titolo siamo chiaramente ancora in italia continuiamo per ancora diversi giorni con l'aggiornamento dei titoli italiani e niente prima di iniziare come al solito vi prego di mettere mi piace al video un gesto gratis per voi e un gesto invece importantissimo per me questo canale sta pian piano crescendo ma a ritmi veramente da lumaca quindi bisogna che ricevano aiuto da parte vostra che guardate i video iscrivetevi e datemi una mano perché se questi video vi sono utili sono utili anche a me almeno in questo modo andiamo avanti ed arriviamo ad una platea ancora più grande allora campari avevamo visto come praticamente su tutti i titoli che che quotano o se non la stragrande maggioranza come la candela di marzo abbia segnato tenete vela in testa mettete vela chiara segnate vela sui vostri grafici è una candela che segna uno spartiacque importantissimo a livello grafico tantissime volte abbiamo visto come questo livello del minimo di marzo abbia rappresentato anche in passato un livello molto importante un livello già testato mentre in altri casi invece no diventa un livello nuovo che probabilmente invece avrà un'importanza fondamentale in futuro al riteste dello stesso livello questo lo potremo verificare appunto più avanti allora quindi abbiamo questo livello di marzo abbiamo un grafico che praticamente in maniera splendida con anche discreta con bassa volatilità insomma senza eccessiva volatilità dal 2015 al 2019 fa segnare un rialzo strepitoso 2 e 50 9 e 16 quindi un titolo direi molto molto bello massimi e minimi crescenti ordinati al rialzo e poi la candela di febbraio e la candela di marzo la candela di febbraio che vende minimi della candela di gennaio e la candela di marzo che sprofonda appunto ci segniamo abbiamo avevamo già segnato questo minimo di marzo andiamo ad aggiungere intanto un livello importante dopo la candela di marzo il primo livello vero di massimi comprati massimi comprati che mi interessano sempre tanto perché indicano esattamente dove a mercato sono entrati in maniera importante gli investitori quindi i long e che quindi spostano al riteste dello stesso livello spostano le probabilità di successo della mia operazione molto più verso il 60 70 80 per cento che non quel fatidico 50 50 di quando io provo a entrare tra virgolette a caso su un livello che insomma magari non ha poi così tanta importanza quello che è importante io l'ho detto spesso in passato e lo ridico io non uso indicatori non uso niente ma perché perché il prezzo contiene tutte le informazioni di cui noi abbiamo bisogno se si impara a leggere cioè quello che dobbiamo capire è dove 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 su quali livelli io posso aumentare le mie probabilità di successo della mia operazione perché come nella vita come nella vita e come in tutte le cose quando io faccio una scelta ho sempre 50 50 50 per poter di azzeccare o sbagliare la mia scelta se riesco attraverso le informazioni di chi ne sa di più di di qualsiasi tipo di informazioni se riesco a spostare chiaramente le possibilità a mio favore da 50 50 a 65 70 75 ecco che banalmente metto nel cassetto una maggior probabilità di avere successo e quindi è quello che noi sui grafici dobbiamo andare a cercare è quello che dobbiamo andare a ricercare i punti i livelli che ci danno effettivamente un vantaggio ora noi stiamo facendo un'analisi di lungo periodo quindi questo discorso tra virgolette potrebbe anche venir meno qualcuno mi potrebbe dire va vabbè ma io se il titolo come questo è a rialzo io tutte le volte che scende compro medio il prezzo tanto prima o poi lo riportano in alto vero anche anche no ma comunque sia ricordiamoci che siamo qui per imparare questi video hanno spunto didattico e quindi il mio intento è in primis per me e poi per chi decide di ascoltare capire come migliorare il mio tipo di operatività le mie entrate i miei target e imparare a comprendere quello che vedo nel miglior modo possibile quindi questo livello di 7 e 93 è sicuramente un livello di nuovo molto importante abbiamo anche intermedio tra questi due livelli abbiamo anche questo livello che è molto bello sono livelli sono livelli che teoricamente non esistono perché di solito si guardano altri livelli ma questo livello che livello è questo livello è il minimo comprato di questo di questo swing di questa minimo della candela di ottobre che viene comprato praticamente con la candela di aprile questa era un'operazione splendida da fare il riassorbimento di questo minimo comprare qua guardate che vantaggio c'è guardate cosa succedeva cioè non avremmo mai visto praticamente più il negativo avevamo uno stop da 6 e 30 a 6 e 13 non piccolissimo ma siamo su un grafico mensile non siamo su un grafico a 30 minuti o a 5 minuti siamo su un grafico mensile quindi cosa voglio dire vedete tra l'altro appunto la candela di marzo stessa chiude sopra questo minimo e la candela di aprile va a romperlo di nuovo e lo riassorbe quindi comprandolo queste sono le dinamiche che ci aspettiamo per poter prendere delle decisioni alla rottura di un determinato livello ok quindi questo è quello che ci aspettiamo poi il prezzo continua a rialzo senza particolare spinta vedete che ci sono delle spike qui in alto gli investitori mettono in tasca i guadagni e preferiscono andare oltre tra l'altro vedete qui c'è stato particolarmente un arretramento perché eravamo sui minimi venduti di febbraio su gennaio quindi quello è stato preso come un tag questa linea verde che è diventata poi un massimo comprato qui era un minimo venduto di conseguenza gli investitori hanno visto quel livello come un target anche cifra tonda 8 euro quindi è per questo che qua più gente ha deciso di chiudere la posizione capite e poi la candela di luglio che di nuovo va verso i massimi rialzo e ancora qui di nuovo massimi comprati massimi comprati che vedete sembrano tra l'altro adesso come pavimento tenere guardate guardate ad esempio la candela di gennaio dove va a chiudere lo vedete non sarà un caso gennaio la candela è scesa fino a 8 e 60 ma chiude anzi ha chiuso perché oggi è 31 ha chiuso sopra questo livello quindi per il momento questo livello che ci prendiamo e ci teniamo io di solito non ne metto più di più di tre livelli ma in questo caso questo è un livello che talmente recente e questo non mi sento di questi qui di cancellarli è chiaro che adesso bisognerà vedere perché questa candela di gennaio sembra aver venduto in maniera insomma ancora non lo possiamo dire come dire a tutta voce sembra che abbia venduto i minimi di dicembre vedremo che cosa succede la chiave di volta nel mese di febbraio sarà vedere se questo livello qui questo tutto questo livello 8 e 60 8 70 viene venduto oppure invece se viene riassorbito e la candela riparte verso i massimi assoluti per magari rompere invece i massimi assoluti nel primo caso ossia nel caso in cui il prezzo rompesse questi minimi la naturale prosecuzione sarà almeno fino a questo livello di 7 e 90 in successione abbiamo questo livello di 6 e 30 che se non dovesse essere raggiunto si potrebbe comunque trovare dei livelli intermedi su questi minimi quindi sempre come in questo caso riagganciarsi al riassorbimento dei minimi mensili precedenti molto interessante questo tipo di approccio ok quindi direi che per quello che riguarda campari e tutto mi sembra di aver fatto una una buona analisi almeno a me oggi per quello che mi riguarda è piaciuta mi faccio i complimenti da solo non abbiamo target o meglio per il momento il target rimangono il target rimangono i massimi assoluti assolutamente perché non è detto che il prezzo arrivando appunto su questi massimi possa esplodere come del resto è successo a dicembre vedete il prezzo che raggiunge i massimi poi comincia a tornare quindi attenzione a chi è long da molto più in basso magari liquidare una parte del dell'investimento niente questo è tutto per campari abbiamo come al solito i nostri livelli e attenzione attenzione da attenzionare verificheremo poi con il proseguio che cosa sarà successo grazie a tutti